Parla tifoso dell'Azzurra. Oggi vi proponiamo un argomento che sta suscitando un vero fermento nel panorama calcistico italiano. Un possibile trasferimento che sta già alimentando dibattiti, teorie e tanti desideri per il mercato di gennaio. Stiamo parlando di lui, un difensore con una carriera consolidata e ricca di titoli. Attualmente alla Roma, il difensore tedesco sta affrontando una situazione complicata sotto la guida di Ivan Juric e le voci indicano che potrebbe partire a inizio anno. E ovviamente questa situazione ha già acceso la fantasia dei tifosi napoletani, che vedono in lui un perfetto rinforzo per la difesa del Napoli, settore che in questa stagione ha presentato alcune. Incertezze. In questo video esploreremo tutti i dettagli di questo caso, dal trattamento di Juric con Hammels alla possibilità concreta di vederlo indossare la maglia azzurra. Quindi aggiustate il volume, prendete gli spuntini, perché ecco che arriva un'analisi completa di un possibile nuovo capitolo nella carriera di Matt Hammels e nel futuro. Difensivo del Napoli. Per comprendere il contesto di questa storia, dobbiamo tornare un po' indietro e guardare alla recente traiettoria di Matt Hammels. Il tedesco, ex capitano del Borussia Dortmund e uno dei difensori più stimati della sua generazione, è stato ingaggiato dalla Roma per aggiungere esperienza e sicurezza al settore difensivo. Tuttavia, quella che sembrava un'unione promettente si è rivelata una partnership travagliata. Dall'arrivo di Ivan Juric sulla panchina della Roma, Hammels non ha avuto praticamente più spazio in squadra. E ciò che più sorprende, anche in situazioni in cui la logica suggerirebbe la sua scelta, come la recente partita di Europa League contro la Royal Union Saint-Gilloise, Juric ha preferito. Improvvisare con altri giocatori, come Cristante, piuttosto che fidarsi dell'esperto difensore. Questo tipo di situazione solleva naturalmente interrogativi, sia da parte dei tifosi che della stampa. Del resto parliamo di un giocatore di alto livello, con anni di esperienza nelle competizioni dell'IT europee, e che, in teoria, potrebbe offrire un grande apporto nelle partite ad alta pressione. Suona quasi una provocazione la decisione di Juric di tenere Hammels fuori dal campo, anche quando sarebbe una scelta logica. E questo alimenta la speculazione secondo cui il tedesco sarebbe sempre più insoddisfatto e probabilmente cercherebbe una via d'uscita nel mercato invernale. E qui entra in gioco la domanda. Hammels è il tassello di cui il Napoli ha bisogno per consolidare la propria difesa? Se guardiamo l'attuale rosa dei napoletani ci rendiamo conto che, nonostante abbiamo buoni nomi come Ramani e Buongiorno, ci sono ancora delle lacune. Rafa Marin, ad esempio, è ancora un mistero, un giovane talento che non si è messo alla prova in partite ad alta pressione. Juan Jesus, pur avendo esperienza, non è riuscito a trasmettere completa fiducia ai tifosi e all'allenatore. Considerato questo scenario, non è difficile capire perché tanti tifosi napoletani siano entusiasti all'idea di vedere Hammels in squadra. Dal punto di vista tattico, l'arrivo di Hammels al Napoli porterebbe una serie di vantaggi. Innanzitutto è un difensore con una lettura di gioco impressionante, capace di anticipare con precisione le mosse avversarie. Inoltre, la sua capacità di distribuire passaggi lunghi potrebbe essere estremamente utile per lo stile di gioco del Napoli, consentendo transizioni rapide e contropiedi più efficienti. Hammels porterebbe anche una leadership naturale nel settore difensivo, qualcosa che potrebbe essere vitale nelle partite decisive. Nei momenti in cui l'esperienza fa la differenza, potrebbe essere il punto di stabilità di cui la nostra difesa ha disperatamente bisogno. Naturalmente ci sono anche questioni che devono essere prese in considerazione. Hammels è già in una fase più avanzata della sua carriera e, naturalmente, questo implica una condizione fisica che potrebbe non essere la stessa degli anni d'oro al Borussia Dortmund. Dovrebbe anche adattarsi velocemente allo stile di gioco della Serie A e all'intensità che il Napoli richiede. Tuttavia, quando guardiamo a cosa potrebbe portare in termini di esperienza, visione di gioco e leadership, i benefici sembrano superare i possibili rischi. Altro punto importante è che Hammels avrebbe la possibilità di giocare regolarmente, cosa che con Juric non ha. E questo è un aspetto decisivo per qualsiasi giocatore, soprattutto per uno con il track record e la professionalità del tedesco. Al Napoli potrebbe ritrovare il ritmo, tornare a competere ad alti livelli e contribuire anche a rafforzare una squadra che cerca di consolidarsi tra le migliori d'Europa. E, naturalmente, non possiamo ignorare cosa ciò significherebbe per i nostri fan. Immaginate l'emozione di vedere un giocatore del calibro di Hammels indossare la maglia azzurra. Si tratterebbe di un rinforzo che non solo innalzerebbe il livello tecnico della squadra, ma darebbe anche nuovo entusiasmo e fiducia ai tifosi. Vedere in campo qualcuno con la personalità e il curriculum di Hammels sarebbe un ulteriore incentivo per la nostra squadra, soprattutto in momenti in cui l'esperienza diventa un fattore cruciale. Ma ora diamo un'occhiata alle reali possibilità che questo movimento si realizzi. Al momento la situazione di Hammels alla Roma è chiaramente insostenibile. Se Juric resta in carica, le possibilità del tedesco di chiedere un trasferimento aumenteranno notevolmente. Una trattativa con il Napoli, inoltre, non sarebbe impossibile, considerato che il club partenopeo ha già dimostrato, in altre occasioni, la volontà di investire su rinforzi che possano aggiungere. Qualità e consistenza alla rosa. Un altro aspetto positivo per il Napoli è che Hammels non richiederebbe un investimento astronomico, considerando la situazione attuale e la probabile disponibilità della Roma a facilitare un'uscita. Che avvantaggi entrambe le parti? Se il Napoli agirà in modo rapido e deciso, questo potrebbe essere uno degli acquisti più strategici del mercato di gennaio. In conclusione, tifosi, siamo di fronte ad un'opportunità che, se ben sfruttata, potrebbe avere un impatto positivo sul futuro del Napoli. Matt Hammels, anche se attualmente sottoutilizzato alla Roma, ha ancora molto da offrire come giocatore e leader. La sua esperienza, intelligenza tattica e capacità di coordinare la difesa potrebbero essere esattamente ciò di cui la nostra squadra ha bisogno per raggiungere nuovi traguardi, sia in serie a che, nelle competizioni europee. Il possibile arrivo di Hammels rappresenta anche più di un semplice acquisto. È un segno dell'ambizione del Napoli di continuare a crescere, di cercare non solo titoli, ma anche di consolidarsi come. Una delle principali forze del calcio europeo. Quindi ora non ci resta che aspettare e sperare che questa storia possa avere un esito favorevole e di poter presto vedere Hammels difendere la maglia del Napoli, contribuendo alla nostra ricerca di... Glorie e di vittorie! Restate sintonizzati qui sul canale per ulteriori aggiornamenti su questa e altre voci di mercato. Forza Napoli sempre! Forza Napoli sempre!